Bentornati, Piazza Politica anche quest'oggi per trattare argomenti di pubblica utilità. Oggi approfondiremo l'attività culturale di un'associazione molto particolare, l'associazione Il Vagabondo, alla mia sinistra Sergio Savini, ideatore e fondatore dell'associazione Il Vagabondo e alla mia destra il piacere di ospitare Marcello Carrozzo che è un giornalista fotoreporter in giro per il mondo nelle zone più pericolose senza ombra di dubbio e il suo lavoro librario ultimo si intitola Il respiro dell'utopia nelle baraccopoli e nelle periferie degradate del mondo a volte anche i sogni sono proibiti. Questo è l'argomento del Piazza Politica di quest'oggi, dello spazio molto particolare che sta per andare in onda, per consumarsi a favore ovviamente di una tematica così fondamentale, così importante. E subito la parola a Sergio Savini. Come nasce il rapporto tra l'associazione Il Vagabondo e il giornalista Marcello Carrozzo? Sì, questa è la quinta edizione di questa rassegna che si chiama Gli incontri con i viaggiatori. Noi un po' di mesi fa abbiamo fatto una colla aperta a tutte le persone che hanno delle storie da raccontare legate ai viaggi. Abbiamo avuto una grande risposta da parte di fotografi appunto di livello eccezionale come Marcello e quindi siamo molto contenti di poterlo ospitare. È una rassegna che si fa un po' a Matera, un po' ad Altamura, visto che abbiamo soci in entrambe le città e sta per concludersi, a fine giugno si concluderà e poi riprenderà con la prossima edizione in autunno-inverno. E' un'iniziativa che facciamo molto semplice nel suo evolversi, ma ovviamente molto complicata perché dobbiamo tenere contatti con tantissime persone che vengono da varie parti d'Italia. Abbiamo avuto fotografie da Trento, da Milano, da Napoli e in passato anche da altre parti d'Italia e quindi in questo modo noi ci arricchiamo di storie importanti, impariamo da queste persone che vanno in giro a fare appunto questo lavoro molto importante nel caso soprattutto dei fotoreporter e cerchiamo di far conoscere poco la nostra realtà qui nel territorio tra Matera e Altamura. Di che cosa si occupa l'associazione Il Vagabondo? Siamo cultura di viaggio per l'appunto, quindi tutte le attività sono legate alla cultura di viaggio, prossimamente faremo delle passeggiate ad Altamura all'interno del Festival dei Claustri e facciamo delle iniziative ora a luglio ad agosto sia in Puglia che in Basilicato sul tema della narrazione del viaggio, quindi come narrare un territorio però senza essere invasivi, quindi sempre con un contatto con la comunità locale, quindi come cercare di incontrare, conoscere e venire a conoscenza di storie legate al luogo per poi poterle raccontare. Cultura turistica? Possiamo anche usare questo concetto? Assolutamente. Ecco io vado adesso a coinvolgere il piacere di ospitare, ribadisco e lo sottolineo, Marcello Carrozzo, giornalista fotoreporter, in giro per il mondo a conoscere anche l'attività nel territorio di etnie, di popoli, io posso dire a tutti gli effetti anche con tanto di emarginazione, le zone difficili su cui puoi addentrarsi e lavorare. Il lavoro librario si intitola Il respiro dell'utopia, ma quello che emerge senza ombra di dubbio è la pericolosità dell'attività giornalistica da fotoreporter. Beh sì, intanto è una scelta che deve essere sostenuta da una grande passione. Il rischio è il tuo mestiere, il rischio è il tuo mestiere, come sovrirsi? No, in realtà a noi fotoreporter in realtà ci lascia un po' perplessi quando veniamo paragonati a persone coraggiose, un po' rambeggianti, eccetera. Io ritengo che una foto può valere, può raccontare più di mille parole, se non addirittura di un'intera storia. Assolutamente sì, è chiaro che per noi è una scelta consapevole, interessarsi e fare reportaggi nelle aree critiche, anzi ad altissima criticità sicuramente non è facile, ma diventa poi negli anni diventa una specializzazione, io non ho mai lavorato in Italia per esempio, mi sono solo interessato di estero, ma la mia è una fotografia soprattutto sociale, io mi interesso di tematiche sociali e negli anni ho capito che per meglio entrare… Ecco, devo ricordare che proprio le attività sociali, la pericolosità e la conseguenza proprio delle conflittualità che nascono e si consumano per il sociale, per quello che di degradante è all'interno di una società con tanto di emarginazione, giusto? Assolutamente sì, la nostra è una società oramai globalizzata che tende un po' a nascondere come si faceva una volta a mettere la polvere sotto il tappeto, si tende a emarginare le persone che danno fastidio o comunque che farebbero fatica di integrarsi in un sistema più complesso, più tecnologico, eccetera. E quindi si preferisce tenerli buoni e quindi ecco gli slam, le baraccopoli, le favelas, le periferie degradate, eccetera, dove difficilmente insomma il politico si affaccia… Ma anche per la pericolosità ambientale… Ma poi sì, perché purtroppo le attività predatorie sono condizione essenziale di sopravvivenza, per cui quando si arriva lì, il turista è quello che paga il prezzo più alto, viene depredato di tutto ed è normale, purtroppo ci può stare. Difficile che a un fotoreporter, un professionista viene riservato allo stesso trattamento, semplicemente perché il fotoreporter, il professionista loro si riconosce e poi perché l'approccio è diverso, tanto perché chi fa questo tipo di fotografia alla fine diventa un partigiano, si schiera dalla parte di chi perde e quindi evidentemente loro, gli ultimi della terra ti considerano uno di loro, anzi… Perché racconti la loro storia, la loro vita? Ma in realtà loro raccontano le loro vite davanti all'obiettivo con la speranza che qualcosa possa cambiare, no? E quindi ecco il meccanismo è questo, ma per farlo è chiaro, specialmente quando torniamo a casa c'è questo carico morale importante, è un fardello enorme, quello di non disattendere le speranze di queste persone e quindi denunciare attraverso la mostrazione delle immagini che si ha attraverso i media, i giornali, eccetera, attraverso mostre fotografiche, eccetera, quindi proprio denunciare, mantenere il più a lungo possibile i riflettori accesi sulle problematiche che appicano queste persone. La soddisfazione di raccontare anche uno spaccato di vita che di solito viene nascosto o semi-nascosto dai media. Assolutamente, allora nascosto il problema è, ripeto, sono tematiche scomode, sono tematiche scomode e comunque per entrare, per addentrarsi, per vivere, perché in ogni caso non si può arrivare, fare lo scoop e tornare a casa, ogni viaggio io lo affronto con un biglietto di sola andata, perché il ritorno non so quando, devo finire di raccontare, devo finire di avere il materiale giusto. mangiato e poi arrivare lì e poi diciamo, poverini, come mi dispiace, no, non funziona, se ne accorgono, è un fatto epidermico di percezione, quindi bisogna accettare di condividere tutto quello che loro hanno, anche le negatività e quindi evidentemente tutto questo comporta intanto una dilatazione dei tempi, perché questo possa accadere, perché non è facile evidentemente, loro sono arrabbiati con il mondo, un mondo che li esclude, un mondo che li respinge, non a caso gli ultimi tre anni li ho dedicati, anche se in maniera frammentata ai flussi migratori, ho documentato i flussi migratori a largo delle coste libiche, nel canale di Sicilia, nel canale d'Otra. Ma questi migratori sono anche gruppi che provengono dalle periferie estreme delle grandi città africane? Assolutamente, assolutamente sì, da percentuale dei siriani, ecco, se si vuole considerare che in tutto la Siria aveva circa 30 milioni, 32 milioni di abitanti, molti, moltissimi sono scappati, si parla di alcuni milioni, ma sono soprattutto in Giordania, in Libano, eccetera, una piccola parte è arrivata in Europa, dico piccola parte, eccetera. In realtà i flussi migratori trovano origine, questi flussi partono dall'Islam, dai luoghi più disperati evidentemente, e poi non dobbiamo dimenticarci che quello che ancora le Nazioni Unite si ostinano a non riconoscere, sono i migranti ambientali, quelli che fuggono per, a causa della desertificazione, dell'impossibilità di coltivare un pezzo di terra, di poter allevare gli animali e quindi non poter, non essere… Molti provenienti dal Nord Africa, dal nord e dall'est del Sahara. Ma è, sì, tutta la zona subsahariana che adesso… C'è una climatizzazione che porta all'aridità proprio, totale, comprita della zona che poi esce sull'Oceano Atlantico, Mauritania, parliamo di quelle aree che spingono flussi di migranti a venire anche verso l'Europa, in cerca di fortuna. In cerca di fortuna non c'è un'alternativa. Non c'è un'alternativa di conflitti tra etrie, nazioni o gruppi religiosi, no? Assolutamente no. Assolutamente. Sono intanto i migranti di tipo ambientale. I migranti ambientali sono quelli che, secondo le stime delle Nazioni Unite, entro il 2050 50 milioni di africani vivranno stabilmente in Europa. Che noi lo vogliamo o no, loro comunque verranno, perché non c'è un'alternativa. La Cina ha comprato tutto ciò che c'era da comprare in Africa, cioè le terre fertili, eccetera, e si sperava, c'era la speranza che almeno utilizzasse la mano d'opera locale. Invece porta i cinesi, in fine pena, praticamente i detenuti cinesi arrivano in Africa per scontare gli ultimi due o tre anni, prendono una miseria, vengono sottopagati, 50-100 dollari al mese, no? La cifra esatta non la conosco. E quindi, in pratica, quello che coltivano lo portano via. Per cui c'è lo sfruttamento della terra con mano d'opera che è straniera e purtroppo l'africano non resta altro che andare via, scappare. Ecco, Marcello, tu sei stato anche in Vietnam e anche lì c'è la tragedia perché l'isolamento che è durato tantissimi anni ha anche lasciato sul campo una divagante povertà. Laos, Birmania, Thailandia, Cambogia, sono zone che hanno visto conflitti perenni. Io sono stato in Vietnam su un mandato di missione del Ministero degli Esteri e OMS per documentare i danni, le mutazioni genetiche che ancora oggi... I bombardamenti, sì, gli agenti chimici... Sì, la diossina, la diossina che era il principio attivo dei defoglianti che con i loro aerei praticamente spruzzavano, innaffiavano, inondavano le foreste per poterli poi meglio individuare il nemico, i Viet Cong e quindi insomma bombardarli. Bene, sono passati molti decenni e ancora ci sono tracce importanti, significative di diossina nei primi 40 centimetri di terra, per cui non è possibile fisicamente rimuovere del tutto il nord del Vietnam, 40 centimetri di terra, per metterla dove poi... Ma si respira più democrazia? Io credo di sì, a me ha impressionato molto la voglia di riscattare... Si è aperto all'Occidente, il Vietnam? Sì, ce l'hanno un po' con gli americani e un po' con i francesi, ma con me... Saigon e Vientiane, quindi divisi in due. Adesso invece poi l'abitudine di dare i nomi anche dei famosi generali... Beh sì, sì sì sì... Ocimin? Sì, Ocimin, io ho conosciuto la nipote di Ocimin, l'ho conosciuta da noi, l'ho conosciuta da noi e solo per un piccolo malinteso non sono riuscito ad incontrarlo, stringergli la mano e fargli uno scatto fotografico. Sarebbe stato... Ecco, invece la pericolosità delle favelas, quelle favelas, quelle brasiliane, Rio di Janeiro o Argentine, ma vengono considerate le favelas più pericolose in assoluto, dove si fomenta e si alimenta l'attività criminale e criminosa. Beh, dove non c'è lo Stato comunque il territorio tende ad organizzarsi, evidentemente poi chi organizza lo organizza con una logica malavitosa, criminale e quindi è chiaro che se lo Stato è assente, ma questo accade anche nelle nostre periferie, di dove manca lo Stato, dove manca... Ma c'è differenza tra la povertà dilagante delle favelas e quella dilagante delle periferie delle città del Sud America, dove tutto si fa in base anche al consumo della droga? Allora, sì, sì, anche se adesso l'uso della droga sta occupando... Allora, in pratica la droga importante, quella economicamente interessante da produrre, viene esportata. Poi c'è la droga dei poveri, quella che si compra con pochi centesimi di dollari... E che consumano anche lì sul posto. Sì, assolutamente, ma gli frigge il cervello nel vorgere di un anno, un anno e mezzo, e non hanno, non c'è scanto. La manovalanza, quella colombiana, è fatta sempre da gente... Sì, in pratica con gli scarti di produzione, mescolando vetro, calcinacci, colle, eccetera... Poi invece si arricchiscono le mafie, quelle messicane per esempio. Assolutamente. La mafia messicana viene ritenuta la più pericolosa, inquietante. Sì, inquietante, sì, è vero, inquietante. Colpisce spesso e volentieri anche i giornalisti. Soprattutto i giornalisti. Sì, purtroppo. E' viva. Ecco, e questa attività, ovviamente, la tua, ecco, perché c'è questa simbiosi, io ritengo perfetta, tra Marcello Carrozzo, molto stimato e molto premiato. Ora parlerò di premio ricevuti. Ma io ritengo soprattutto per la capacità di saper interpretare e riportare anche l'immagine in tempo reale di quello che in realtà accade sul posto ed è importante ciò che, ribadisco e sottolineo, non viene fatto di solito dai media a tutti i livelli. Ecco, quello che vi unisce il vagabondo e il vagabondare. Permettimi il termine, giornalisticamente parlando, per quello che tu fai e rischiando moltissimo. Giusto? Sì, lui ha detto una cosa bellissima, il fattore tempo. Il fattore tempo è fondamentale. Anche l'approccio che abbiamo nel turismo responsabile. Chi fa turismo non ha mai tempo, ha questo problema. Deve andare e tornare, cioè il bilancio di ritorno deve essere tutto molto contingentato. Noi cerchiamo di far sì che la gente capisca che un viaggio di conoscenza deve essere fatto in pochi luoghi. cerchiamo di stare il più tempo possibile. È una cosa diversa dal viaggiare libero che parti e poi non sai quando torni. Quindi non possiamo fare paragoni, però possiamo provare quantomeno a partire con la consapevolezza che noi non andremo mai a fondo di quelle realtà. Non c'è niente di più sciocco che sentire o noi quando andiamo, o gente che viene dalle nostre parti, fare dei commenti sui luoghi che stanno vedendo, perché le cose non vanno, perché qui dove... Ecco, questo è un modo superficiale di comportarsi. Noi quando siamo in viaggio dobbiamo cercare di conoscere. Ovviamente se lo facciamo con pochi giorni, conosceremo due o tre persone, conosceremo qualche pillola di storia, ce lo facciamo bastare. Nel senso che più di quello è inutile pensare di andare. E poi c'è il viaggio vero e proprio, in caso dei fotoreport ovviamente è tipico, in cui si va. Si va e c'è il fattore tempo che è fondamentale. Ecco Marcello, i premi che hai ottenuto e soprattutto il riconoscimento alla tua straordinaria e pericolosa attività. Sì, sinceramente io non è che guardi con sospetto, ma sono fondamentalmente timido quando non ho la macchina fotografica tra le mani. E quindi un po' rifugono queste forme di... Soprattutto se il riconoscimento vive dalla parte politica? No, no, questo no. No, no, no. All'ordine dei giornalisti, per esempio, mi ha riconosciuto per tre volte col premio campione. È una cosa abbastanza difficile da ottenere. L'ho ottenuto per tre anni consecutivi. L'ultimo, Escaping People, che racconta appunto il dramma dei flussi migratori, partendo dai luoghi d'origine, ecco l'importanza che per me è stato facile perché avendo una quantità enorme di materiale da poter utilizzare, è chiaro che ho realizzato una mostra fotografica importante, che è stata presentata a Monaco di Baviera, al Gasteig di Monaco di Baviera, su una superficie di 800 metri quadrati di superficie espositiva, 156 immagini. E il Suddeutsche Zeitung Magazine ha considerato il mio lavoro Uberlieben, Weiterlieben, che era sopravvivere per sperare di continuare a vivere, questa è un po' la traduzione. Il più esaustivo e drammatico documento sui flussi migratori degli ultimi vent'anni. Ecco, quindi questa è stata la mia soddisfazione. Ovviamente poi l'ho presentato anche al concorso Michele Campione, verso il nostro, ordine dei giornalisti della Puglia, e ovviamente, dico tra virgoletto ovviamente, sì, sono stato premiato. Mi hanno riconosciuto una capacità narrativa di narrare per immagini che evidentemente, insomma, intanto ho proposto lavori nuovi, diversi, altri, non la solita partita di calcio o il, voglio dire, l'incidente stradale, magari anche drammatico, eccetera. Io indosso gli scarponcini, parto e vado nei luoghi bui del mondo e quindi è chiaro che il materiale sicuramente è più interessante. Sono sempre meno i giornalisti che scelgono di seguire le tue orme? Perché costa molto. Costa molto. Io pensavo solo per il rischio, no? Il rischio, sì, è uno dei fattori, però in realtà è multifattoriale, le difficoltà sono molteplici. La capacità, intanto fisicamente devi essere in grado di sopportare situazioni così distanti dal nostro vivere quotidiano, che se non sei veramente corazzato, se non hai un fisico comunque bene, no, sei immediatamente punito. Io non ho mai avuto un decimo di febbre, io in pratica negli ultimi 25 anni non ho mai avuto un problema, ma di nessuno bisogna. anche essere soprattutto, o non anche, soprattutto, efficienti fisicamente. Assolutamente sì, e poi, vabbè, ovviamente i vaccini, la prudenza, eccetera, però comunque io in tutti questi anni gli alberghi ne avrò fatti due o tre in 25 anni, dopodiché sacco a pelo e si dorme dove possibile. Ma d'altro, chi mi chiede questi reportage, quando alla fine si legge Alloggi di fortuna, capisci che in realtà ti devi arrangiare un po', e quindi dalla foresta equatoriale, dormire nella foresta e sentire il gorilla di montagna che urla, richiamando le femmine, no, oppure da Kobane, dove grazie ai peshmerga, ai peshmerga curdi sono riuscito a tornare a casa, perché non ci fossero stati loro, sicuramente non stare qui a parlare con voi, dai manicomi in Argentina, alle carceri in Vietnam, ai manicomi in Africa, terribili, eccetera, e niente, ci vuole quella capacità di adattarsi in tempo reale, immediatamente, arrivi in un luogo, devi immediatamente imparare le parole per sopravvivere, tanto nessuno ti chiederà un concetto filosofico di vita in quei luoghi, ma vivere in maniera aspra, rude, vera, il quotidiano, e bastano poche parole, poi è chiaro impari il linguaggio. Utopisticamente parlando, Marcello, io ho scritto sogni assurdi realizzabili, è la stessa cosa nel tuo concetto di utopia vera e pura? Ma sì, assolutamente sì, infatti quello virgolettato nelle baraccopoli, nelle periferie degradate del mondo, a volte anche i sogni sono proibiti, e resta l'utopia, e quindi questi sogni assurdi, che sono quelli di una vita migliore. Io, conclusi un lavoro in uno slam di Nairobi, Corogocio, quello che viene considerato oramai in tutto il mondo l'inferno su questa terra, al termine di una mia esperienza lunga, perché ci sono stato due volte, chiesi ad una giovane donna quale fosse il suo sogno, lei mi guardò e mi disse andare via da Corogocio, e io appuntai, lei dissi unica risposta possibile ad una domanda veramente stupida. Ultima domanda, Marcello, rifaresti tutto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, a te il compito, Sergio, di chiudere l'appuntamento di quest'oggi, il piacere di ospitare un giornalista, vero, non di fronte alle telecamere, seduto, comodamente ad una scrivania, ma uno che, ecco, diciamo, è sul campo, intrincea, vivere le stesse difficoltà che vivono i più deboli, le fasce deboli che sono e affollano anche le estreme periferie delle grandissime città, delle metropoli, ad ogni latitudine, giusto? Sì, 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 credo di aver fatto tre volte il giro del mondo, ma quando mi è capito dire, sono stato, ma appena sono andato all'Africa, bella Malindi, vero? Sì, sì, ma con le spiagge, purtroppo non conosco, purtroppo, cioè anche Damasco, vabbè, io ci ho vissuto abbastanza a lungo, a Damasco, sono stato gratificato, un mio libro fu pubblicato anche in arbo e in inglese, è stato praticamente un best seller per quasi un anno in quell'area del mondo, tra Libano, Giordania, eccetera, e Siria, ovviamente, però io la sera, nonostante avessi rapporti con personalità di spicco del mondo damasceno, io la sera tornavo a dormire nei campi profughi, a Mukaya e a Yarmouk, io avevo lì il mio alloggio, la gente si scandalizzava, la gente... Per abitudine o solidarietà? Ma perché, in effetti, no, trovavo comodo dormire con i palestinesi, con i propri palestinesi, mi sentivo più a raggio. Ecco, Sergio, a te il compito di chiudere il prossimo impegno dell'Associazione Il Vagabondo. Sì, avremo, dopo Marcello, appunto l'ultimo appuntamento della rassegna del 29 giugno con Elisa Castoro, che ci parlava delle donne camminanti, e poi saremo appunto al Festival dei Claustri, quindi nel weekend, sabato e domenica di fine giugno, dalle ore 18, per una passeggiata, la prima passeggiata che facciamo ad Altamura, sul tema delle donne artigiane, quindi iniziamo anche ad Altamura a fare queste passeggiate tematiche che tanto ci controvestigono. E noi di Teleappola saremo lì a seguire il tutto. Allora, immensamente grazie, è stato un piacere, un onore, ospitare Marcello Carrozzo, il respiro dell'utopia, è qualcosa di incredibile assolutamente da approfondire, giornalista, fotoreporter e Sergio Savini, alla mia sinistra, è l'ideatore, il fondatore dell'associazione Il Vagabondo. Piazza Politica torna domani alla stessa ora. Non mancate. Grazie. Grazie. Grazie.